a tutti ragazzi ed eccoci qui questo nuovo video allora guardate io e robbie dove minchia vi abbiamo portati questo posto è stato scoperto dal buon giuliano vero sound gamer niente ragazzi detto questo ciao ragazzi detto questo io direi di partire la porta già si muove da sola che bello wow c'è abbastanza eco qua dentro ma non capisco sti macchinari a che cosa servivano ma non vuole saprivate Ragazzi purtroppo questa porta non si può aprire È bloccata Il filo è più resistente del solito Scendi va La porta che si apre da sola è fantastica Non capisco sto macchinario a che cosa serviva E queste scalette io non le vedo fra le più resistenti al mondo a dirvi la verità Purtroppo non c'è un'entrata a sta torre Solo quelle scalette sono l'unica via d'entrata diciamo così Perfetto ragazzi il video può anche finire qui Questo è il posto in questione Se vi è piaciuto fatecelo sapere sotto nei commenti Ricordiamo che non sono stati regati danni alla struttura Noi ci vediamo in un prossimo video E ciao ragazzi